ciao a tutti eccoci nel secondo episodio seconda puntata delle moto di vale oggi parleremo dell'anno 1997 per parlare del modellino di per sé non c'è tanto da dire perché è molto simile a quello precedente del 96 infatti abbiamo sempre stessa forma esatta identica e gli stessi materiali che sono di metallo e plastica quello che cambia però principalmente è il colore i colori e gli sponsor devo dire che questa moto con questi colori così è una delle mie è una delle mie preferite in assoluto di tutta la serie infatti i colori le varie anche la forma perché non è assolutamente brutta la rende molto accattivante per parlare dell'anno di come moto vera di per sé anche se è molto simile a quella del 96 sono immutata abbiamo semplicemente che qua sono sicuro che valentino era in un team ufficiale il nastro azzurro dell'aprilia che lo cambiava veramente poco comunque come cosa come anno allora valentino in questo anno è stato veramente molto bravo ha compiuto ha completato una stagione il 97 che sarebbe stata la sua seconda stagione seconda stagione nel moto mondiale 125 sempre sempre con l'aprilia in 125 sì fu molto molto con molto successo infatti lui vinse in 125 in un anno solo ben 11 gare 97 vinse 11 gare su credo che siano state 15 in totale quindi solo 4 non ne vinse fondamenti invece da un altro pilota giapponese quindi solo due persone in quell'anno vinsero delle gare in 125 cosa molto poco poco comune perché se vediamo adesso nevodo 3 ci sembra veramente tantissima lotta infatti era così anche al tempo il problema è che valentino era veramente un'esperienza che aveva fatto l'anno precedente lo portò a un dominio assoluto delle moto mondiali di quell'anno infatti vinse il mondiale piloti bensì ad agosto il 30 agosto lo vinse mesi prima della fine effettiva del campionato quindi con un bel po' di vantaggio sugli avversari quindi 11 vittorie molti podi credo che solamente una volta non sia andato a podio o due causa cadute insomma ritiri in generale si un anno veramente molto positivo per valentino un anno che quasi ok si aspettavano tanto da lui ma non così tanto insomma veramente dominato tutto il mondiale con 11 vittorie su 15 sono veramente tante quindi innanzitutto qua possiamo vedere molte particolarità come lo sponsor nostro azzurro che seguirà valentino per ben 5 anni infatti lo portava fino al 2001 solo 500-2001 Honda a me piace molto personalmente come modellino come ho già detto è veramente molto molto bello faccio un po' ruotare comunque come forma e varie cose è praticamente identico al modellino precedente dell'anno 96 perché proprio anche la moto di per sé era identica cambiava veramente niente quasi perché 125 di quel tempo lì tra un anno e l'altro cambiava probabilmente niente probabilmente non c'erano proprio cambi è molto carino anche qua i dettagli faccio vedere un po' di dettagli in generale ovviamente la monomarmite perché è monocilindrica con le varie leve davanti vari cupolino sempre con rossi fumi come soprannome a me piace non finirò mai di dire ma piace veramente tanto questa moto una delle mie preferite sì quindi ben dettagliata anch'essa come la precedente la qualità da aspettarsi da un modello minichamps e cosa posso aggiungere inoltre? ci sono state varie versioni della minichamps con figurine sopra con la replica di Valentino in varie posizioni come potrebbe essere quella con la mazza quella con dietro il numero uno di quando vinse il campionato insomma tante belle posizioni tante belle varianti di Valentino su questa moto a dire che io come comunque sì non ci furono non ci furono scusate un attimo scusate un attimo ho avuto un attimo di defiance perché mi suonava il telefono ma vabbè cominciamo sì come ho detto in questo mondiale che fu dominato non ci furono cambiamenti di livree speciali per la moto come ugualmente fu per il 96 nel 96 e nel 97 non ci furono livree speciali ma come probabilmente ho detto nell'episodio prima quello che è importante è che io ho solamente la versione standard della moto ovvero quella che prevale per tutta la stagione quella con cui è stata presentata la livrea senza livree speciali di grand premi in particolare quindi semplicemente ognuna per ogni anno e neanche test bike è solamente il modello con cui ha corso il modello standard per il 1997 credo che sia tutto oramai perché c'è veramente poco da dire è stato un anno grandioso per Valentino infatti l'anno seguente farà il passaggio il 98 farà il passaggio in 250 ma per il prossimo modello dovremo aspettare il prossimo video ciao a tutti ciao a tutti